Siete stufi di perdere le partite con i vostri amici? Comprate i crediti su fifacredits.com e spaccategli il culo una volta per tutti a quei bastardi Bene ragazzi, quest'epme è bentornato in questo nuovo video di FIFA 14 Siamo sulla modalità di mondiali di FIFA 14 Ultimate Team Questa che vedete è la squadra che ho trovato diciamo aprendo il pacchetto della squadra generale Che ti offre la EA e fa decisamente cagare Basta guardare il risultato, cioè 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta L'avete già capito vero? Vedete quei 150.000 crediti? Andiamo a spacchettare un po' Il primo pacchetto non può assolutamente essere una cosa negativa Io appunto, non lo so, ho un Messi, ho un Cristiano Ronaldo, un Neymar Qualcosa di abbastanza semplice Holman Holman? Vabbè dai può da starci Cappiatini Cos'è questo? Un pacchetto oro gratis Hai ricevuto un pacchetto gratis e riscattalo? Che culo? Vabbè riscattiamo Andiamo avanti, va Dai che stavolta è buono Dai che il Cristiano Ronaldo arriva Boom! Chi è? Iepes Iepes Oh, però abbiamo trovato la Vezzi eh Che è già qualcosa Un altro pacchetto oro Ma non è che ogni pacchetto mi dà un altro pacchetto oro? No perché se è così li compro tutti cazzo Dopo dobbiamo riscattare pure i pelli Dai, dai, dai Ci vorrebbe tipo un Royce, un Rob, un Lewandowski Per rendere tutto più scottante Pam! Zirco Da notare lui 49 Alla faccia di un clonatore di banco Ma tarmeno Io però non vorrei sprecarli proprio tutti A questi 150.000 Cioè, arriviamo a 75.000 Non abbiamo trovato niente Mi compro i pacchetti normali da 7.500 Tac! Un'ottanta E mi ama La puttana di Eh, ho trovato Cos'è? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei Sei allenatori in un pacchetto La maglietta però dell'Italia Attenzione Stavolta è buono Stavolta è buono Stavolta è buono Zac! Thompson Cos'è? Un fucile? Kimia Sung Ma lui ha gli occhi storti, dai Ma c'è erbido pione Che tristezza Fernando Torres Eh, insieme a muoverci abbastanza bene Non è chissà cosa Però nei mondiali dovrebbe essere più utile Il CT Grandelli Non usiamo lui per forza È troppo, troppo epio Please Please give me someone Powerful Tu, 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 giurvas Chi è? Ben te che? Lui è della squadra dei cocomerari Lui è buggato come la morte One more pack Uh, 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 uh Coli Twight Che merda è? Frim Pong Questo è il campione nazionale di Fim Pong Ce l'hanno messo a fare Allora, facciamo così Se trovo almeno uno di valore 90 Sono contento Almeno un 90 Non chiedo di sa cosa alla fine Barnetta Kim Chao Su È l'amico di prima Di quell'altro Gula Mamma Questi pacchetti sono una delusione Totale Ansaldi So bad So bad Inizia a salire la delusione Siamo già sotto i 100 mila reti Non abbiamo trovato un cazzo di niente ragazzi De Rossi Oh, il capitano, ragazzo Daniele De Rossi Bene Lui è buono Lui mi piace Anche perché un vecchi DC mi ci voleva Lui mi piace proprio come giocatore in sit per sit Lui, quando passa accanto alla polizia Gli fa accostare You believe in magic? Oh, I believe in Cristiano Ronaldo Gonzales Spagas della Vegas Gli genitori per scegliere il nome hanno aperto un dizionario Hanno figgiato le pagine a caso Perché non è possibile Se non sbaglio in questa modalità Non puoi comprare i giocatori delle altre squadre Cioè, solo nei pacchetti puoi trovare qualcun altro Altrimenti ti attacchi alla squadra che hai E lo prendi nel culo Mario Come? Anche Ramirez è buono Non è male Però il problema è che sono di cose diverse Cioè, devo prendere tipo Io volevo usare tutti quelli dell'Europa, per esempio Dai ragazzi, ultimi due pacchettozzi di questi mondiali E poi andiamo a aprire quelli da 7500 normali Ovviamente dobbiamo pensare, non so, la potenziale da questa squadra di mondiale Ma anche l'altra Claudio Marchisio Bene, bene, potrei farmi tipo un ibrido Italia-Germania Mi piace questa cosa Ultimo pacchetto della muerte Noi ragazzi, che qui mi sento e troviamo qualcosa Dai che me lo sento Dai che esce Sì No Effettivamente no Please 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 Chi è? Ma cos'è? Velto Hidson La cacca La cacca più totale Dai, fermo così Abbiamo tre pacchetti a 7500 E tipo un po' normale Rosarena Che cagata Pizarro Dai, sono pure uscite gli informa oggi Un informa Uno nero Datemi un cazzo nero Devo il nero E che virile Non ci posso eredere Non ti ho fatto un nero nero Un nero nero ma da un miliardo di riemi sto coso Mamma mia Devo il informa Porca troia Ehi, culo di merda Andiamo Per una volta Un po' di culo Ma era vero che se non mi mettevo la maglietta delle squadre di calcio vincevo La maglietta della Sardegna I quattro morti Mamma mia Defoe Grandissimo cazzo Voglio vedere quanto vale Ragazzi ancora su Foodhead non c'è scritto quanto vale Quindi potrebbe valere un miliardo di miliardi di crediti Noi per adesso lo inviamo alla lista trasferimenti Mamma mia Grande pacchetto E anche se sono due neri E porca due Yeah, yeah Apriamo un po' di pacchetti gratis va Mentre non c'è mai niente Eeeh E Tomovic Fernandinho Ma cos'è? Heder Madonna ragazzi ma non meno un orario di questi giocatori Oh un pacchetto di mondiario riscattavo E culo Quindi dopo dobbiamo andare in a riaprirlo Cioè uno fa pacchetti infiniti Osvaldo Ma cos'è? Perisic Non va Pacchetti infiniti Oddio Qualcuno raro Van Buiten Velocità 29 Cioè mia nonna va più veloce di lui con le borse della spesa in mano Gomez Gomez Mi ho trovato Gomez Buono lui? Lui dovrebbe essere buono no? Tantasei Varrà un qualcosina Ho mai aperto così tanti pacchetti ragazzi Iraola Che cazzo chi è questi due? Ma se sono? Comunque c'è un oggetto raro e trovo sempre il contratto Sì che è lui Nagatomo Obinna Quanto è bugato? 88 velocità Dai ultimi 5 pacchettozzi Sì che è lui Emanuelson Emanuelson I believe in Vidal La freschezza che Vidal ti dà Pan Volante Chi è? Una Zac Efron Quanto è brutto lui? Olè Alabsi Chester Cos'è? Rolando Lei c'ha la testa mezza sfocata Ultimo pacchetto Regalato Dai Messi Faccelo questo regalo Faccelo questo regalo Se trovo un nero nei pacchetti regalati dai FIFA mondiali Spacco tutto il palco Pum Ibiasevich Dai prima di andare ad aprire il pacchetto dei mondiali Apriamo l'ultimo pacchetto da 7500 Perché vi voglio bene Lasciate un bel mi piace Cazzo Porca miseria Perché abbiamo trovato Defoe in forma Porco 2 L'ultimo pacchetto Troviamo Messi E ce ne diamo le palle 3, 2, 1 PAM Pelle Pelle Ce l'ho pure doppione Ce l'ho Barnetta ancora Abbiamo un pacchettino Apriamo il pacchettino Boom Nail Questo è quello che è venuto fuori Che sono riuscito a creare Una specie di ibrido europeo Devo cambiare anche allenatore Devo metterci il mitico Tracer Riprendelli È una bella squadra Nei prossimi giorni Probabilmente se volete Ci posso fare anche una partitina Spero il video vi sia piaciuto Come al solito Vi invito a lasciare un bel mi piace E un commento E dimmi cosa ne pensate Se volete consigliarmi Magari un'altra squadra da farmi Noi ci vediamo domani ragazzi Nel prossimo video Ciao Noi ci vediamo domani Noi ci vediamo domani Noi ci vediamo domani Noi ci vediamo domani